Salve a tutti i giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi finalmente, dopo tanta attesa, posso parlarvi del primo episodio della terza stagione di Domandalorian, oppure del capitolo 17 se preferite, una puntata intitolata L'Apostata, che ci presenta molte tematiche interessanti e soprattutto tantissimi easter egg e riferimenti, tutti elementi dei quali vi parlo come sempre nel dettaglio dopo la sigla. Il primo episodio di Domandalorian 3 si apre con l'armaiola che sta forgiando un nuovo elmo mandaloriano. Scopriamo successivamente che si sta svolgendo praticamente un rito di iniziazione dei figli della Ronda e soprattutto notiamo che rispetto a quello che avevamo visto nelle prime stagioni di Domandalorian e in The Book of Boba Fett, i figli della Ronda sono tornati in gran numero e vediamo davvero tanti vessilli dei vari clan mandaloriani. Come ricorderete, ogni clan rappresenta una singola famiglia e i vari clan sono riuniti in casate più grandi. In particolare, in primo piano possiamo notare, oltre al vessillo dei mandaloriani rappresentato dal teschio di un mitosauro, anche e soprattutto il vessillo del clan Visla. E poi nello sfondo possiamo vedere altri vessilli, tra i quali ci sono alcuni inediti e altri che rappresentano dei clan noti, come ad esempio quello del clan Eldar, quello che sembra essere il simbolo dei crociati mandaloriani, eccetera. Tra tutti questi mandaloriani possiamo notare inoltre in primo piano Paz Visla, che sembra avere un rapporto molto stretto con il ragazzo che sta per essere iniziato, che scopriremo poi chiamarsi Ragnar. È interessante notare che questo nuovo personaggio è interpretato dal piccolo Wesley Kimmel, un giovane attore che abbiamo trovato già all'interno di The Book of Boba Fett e che è il figlio del regista Jonathan Kimmel, e soprattutto il nipote del più conosciuto Jimmy Kimmel. Mentre l'armaiola si appresta a portare avanti il rito tramite il quale questo giovane ragazzo entrerà a far parte ufficialmente dei figli della Ronda e quindi dovrà appunto seguire il credo, il gruppo di mandaloriani viene attaccato da un'enorme creatura simile ad un coccodrillo corazzato, e a nulla sembrano valere gli sforzi combinati di tutti i mandaloriani, poiché questa creatura sembra quasi indistruttibile. E a risolvere la situazione ci penserà ovviamente Din Djarin, che fa un ingresso epico con il suo Starfighter N1 di Naboo, riuscendo praticamente a bombardare la creatura e ad eliminarla. Sono sicuro che se siete tra quelli che non hanno visto la serie The Book of Boba Fett, già in questo momento non ci avrete capito granché, considerando il fatto che giustamente Din Djarin possiede una nuova astronave e soprattutto il piccolo Grogu è tornato insieme a lui. E in realtà anche il dialogo successivo con l'armaiola rappresenta un recap degli eventi che sono già accaduti all'interno del quinto episodio della serie The Book of Boba Fett, una scelta narrativa che già all'epoca non apprezzai molto, quella cioè di narrare delle vicende palesemente riguardanti la serie The Mandalorian all'interno di un ulteriore prodotto, un qualcosa che secondo me ha inficiato moltissimo anche questo primo episodio della terza stagione, tutti elementi però dei quali avrò modo di parlarvi a breve. Come vi dicevo, questo dialogo tra Din Djarin e l'armaiola serve diciamo così per fare un recap di quello che era stato un altro loro importante dialogo all'interno del quinto episodio di The Book of Boba Fett e che rappresenta quello che è lo scopo del Mandaloriano all'interno di questa terza stagione, e cioè quello di redimersi poiché si era tolto praticamente il casco immergendosi all'interno delle acque viventi che si trovavano nelle miniere di Mandalore, anche se l'armaiola riteneva che queste miniere fossero praticamente irraggiungibili poiché il pianeta, stando sempre a quello che ella credeva, era praticamente avvelenato dopo le vicende della purga. Din Djarin però proprio per questo motivo le aveva portato un'iscrizione mandaloriana proveniente proprio dalla superficie del pianeta, a dimostrazione del fatto che probabilmente Mandalore non era avvelenato come lei credeva, e per questo ora Din Djarin sarà impegnato a fornire una prova del fatto di essersi immerso all'interno delle acque viventi, per poter così tornare da redento nelle grazie del credo, e soprattutto dei figli della Ronda. Nella sequenza successiva, mentre i due viaggiano nell'iperspazio, Grogu osserva estasiato delle maestose creature, che sono praticamente i Purgill, delle creature molto particolari che sono comparse per la prima volta all'interno della serie animata Rebels, e che fanno quindi il loro debutto in live action. I Purgill hanno avuto un ruolo fondamentale all'interno di Rebels, soprattutto nel finale della quarta stagione e della serie, e sono certo che la loro presenza non sia casuale, e si colleghi a quanto vedremo all'interno della serie live action Ahsoka, considerando il fatto che i Purgill sono indissolubilmente legati a quello che è stato il destino di Esra e del grande ammiraglio Tron. Per chi non li conoscesse, i Purgill sono delle creature molto particolari, simili a balene tentacolari, che vivono nel vuoto dello spazio e hanno l'innata capacità di viaggiare nell'iperspazio, ed è proprio per questo che Grogu li vede nel corridoio iperspaziale. Stando a quelle che sono le leggende, sono stati proprio i Purgill, millenni prima degli eventi principali di Star Wars, a ispirare le prime specie senzienti a studiare l'iperspazio e inventare l'iperguida. Il popolo che poi per primo riuscirà a compiere viaggi iperspaziali sarà quello dei Rakata, che sono stati di recente ricanonizzati tramite la serie live action Andor. Dinjarin e Grogu approdano poi su Navarro, dove possiamo notare un'ulteriore evoluzione di Navarro City, che è diventata ancora più rigogliosa e ricca di musica e mercati rispetto alla seconda stagione, dove già la città era in piena espansione. Per strada un droide protocollare bianco illustra ai visitatori le bellezze e i punti di forza del pianeta. Quest'ultimo è molto simile a K3PO, un personaggio che era apparso in episodio 5. Oltre a lui, per le strade possiamo notare una grande varietà di specie aliene e di droidi. Vediamo ad esempio un astromecca R5, un droide supervisore di serie EV, un droide da cucina di serie COO, che era apparso per la prima volta in episodio 2, un droide gonk, eccetera. E poi vediamo come detto Mon Calamari, scimmie lucertola kawakiane su un albero e tantissime altre specie aliene. In merito a queste possiamo annoverare anche una band che intrattiene i visitatori per strada, formata da due Twi'lek, un Gran e un membro della specie del personaggio di Cry Last Indy, che era apparsa in una scena tagliata di episodio 8 e che aveva poi debuttato come specie nella serie Obi-Wan Kenobi. Dean e Grogu giungono quindi nella piazza dove è presente la statua commemorativa di IG-11, che come ricorderete si era sacrificato nel finale della prima stagione. Proprio qui li raggiunge Griffkarga, che viene scortato da due piccoli droidi e da un protocollare dorato RA-7. Come scopriremo, egli ora è l'alto magistrato e quindi ricopre una grande posizione di prestigio sul pianeta Nevarro. A dimostrazione di quanto non solo lui, ma anche il pianeta Nevarro fosse diventato prestigioso, egli dice a Mando che praticamente il pianeta era diventato una delle rotte commerciali ufficiali della Via Idiana. La Via Idiana era una delle rotte commerciali più grandi della galassia lontana lontana, che collegava moltissimi mondi dell'orlo esterno con quelli del nucleo, e che era stata nominata per la prima volta in The Clone Wars, ed è poi stata menzionata in tantissime altre opere di Star Wars, come i romanzi e fumetti, come ad esempio Tarkin o Cacciatori di Taglie, e che era stata nominata anche nel quarto episodio della seconda stagione di Domandalorian, all'interno della Scuola di Nevarro, un luogo che poi rivedremo anche a breve. Griffkarga gli racconta inoltre che la città era in piena espansione, e soprattutto che i cinturiani stavano sfruttando i campi di asteroidi che si trovavano ai margini del sistema. È interessante notare che i cinturiani sono dei particolari Agnat specializzati nel minare gli asteroidi. Un bellissimo elemento che è diventato ora canonico e che proviene da una delle guide del gioco di ruolo di Star Wars, Galaxy Guide 2 Yavin & Bespin. Griffkarga offre poi a mando proprio un lotto di terreno, pensando che praticamente egli avesse completato la sua missione e che quindi volesse stabilizzarsi. Din Djarin però gli dice che solo una parte della sua missione si era conclusa e che invece ora per il suo popolo era considerato un'apostata e che doveva prima risolvere questa situazione. Mentre i due dialogano avviene un simpatico siparietto con Grogu, che oltre praticamente a girare su se stesso con la sedia, riesce ad attrarre a sé uno stuzzichino utilizzando la tele cinesi. Una delle tante abilità che era riuscito ad affinare tramite l'addestramento con Luke Skywalker che abbiamo visto nel sesto episodio di The Book of Boba Fett, e sono sicuro che anche nelle prossime puntate vedremo i frutti di questo addestramento sul bambino. Din e Griffkarga vengono interrotti dal protocollare di quest'ultimo, che gli avvisa del fatto che in città erano arrivati alcuni pirati, e i due personaggi si fiondano quindi da loro e scoprono che questi pirati volevano entrare all'interno della scuola di Nevarro, luogo che come vi dicevo, abbiamo visto nella seconda stagione di Domandalorian, ma che in realtà, come ricorderete, nella prima stagione della serie era invece proprio un bar. Questo gruppo di pirati, che è capeggiato da un nicto di nome Vain, non capisce, o meglio non vuole capire, che quel luogo non era più un bar, ma ora era adibito all'insegnamento, e infatti vediamo anche la droide protocollare che faceva da maestra nella seconda stagione. E nonostante i ripetuti avvertimenti di Griffkarga, Vain cerca rogne, e perciò viene colpito dall'alto magistrato. Non contento però, egli vuole continuare il duello, e in quel momento anche Din Djarin interviene, eliminando anche tutti gli altri scagnozzi, tra i quali possiamo vedere membri di quelle specie che vengono spesso utilizzate nelle serie di Favro e Filoni come nemici, e cioè i Trandoshani, i Klatwiniani, i Viquei e i Quorren. Solo Vain riesce a scappare, o meglio viene fatto scappare da Griffkarga, poiché avvisasse quello che era il suo capo, il re dei pirati Gorian Shard, un personaggio che poi incontreremo successivamente. Come vi dicevo, Vain avrebbe dovuto avvisare Shard del fatto che ormai Navarro City era un luogo rispettabile, e che non erano più ammessi pirati o altri banditi che volessero far Valdoria. Dopo questa schermaglia, Griffkarga confida a Mando che gli serviva uno sceriffo, poiché lo sceriffo Caradune, dopo le vicende del finale della seconda stagione, era stata reclutata dalle forze speciali della Nuova Repubblica. Questo corpo è apparso per la prima volta nei romanzi di Aftermath e in Alphabet Squadron. Si tratta di una divisione delle forze di difesa della Nuova Repubblica, ed è capeggiata da Crixmadin, personaggio comparso per la prima volta in episodio 6. Questo dialogo inoltre ci aiuta a capire come sia stata risolta la questione Caradune, dopo le vicende riguardanti l'allontanamento della sua interprete Gina Carano, e quindi tra tutte le soluzioni che avevo ipotizzato, è stata utilizzata quella semplice indolore del Odimo, che come ci insegna Boris Quattro è sempre la più efficace ed economica. Sempre tramite questo dialogo scopriamo inoltre che Moff Gideon era stato portato di fronte ad un tribunale di guerra della Nuova Repubblica, un altro organo che era stato già citato nel quinto episodio di The Book of Boba Fett e in tanti romanzi come Shadow Fall, Aftermath Debito di Vita, eccetera. Questo scambio di battute tra Griffkarga e Dinjarin ci fa inoltre capire quanto l'influenza della Nuova Repubblica continuasse a non essere vista di buon occhio dai pianeti dell'orlo esterno, e infatti Griffkarga puntava a far diventare Nevarro uno scalo indipendente. Giunti di fronte alla statua commemorativa di IG-11, Din fa a Griffkarga un'inusuale richiesta. Egli voleva infatti riportare in funzione proprio il droide IG-11. Nonostante il fatto che di lui fossero rimasti ormai solamente i pezzi che si erano riusciti a recuperare dopo le vicende del finale della prima stagione. Din però non vuole sentire ragioni e cerca in tutti i modi di riparare il droide, che in realtà si riattiva, ma lo fa praticamente con la programmazione originaria, che era quella di eliminare Grogu. E infatti tenta proprio di eliminare in tutti i modi il piccolo, e viene poi fermato a fatica da Din e Griffkarga. Per questo motivo l'alto magistrato di Nevarro porta Din Djarin da alcuni rinomati riparadroidi che si erano trasferiti sul pianeta, e cioè degli anzellani, dei membri della stessa specie di Babu Frick. Qui assistiamo, a mio modo di vedere, ad una delle sequenze più divertenti degli ultimi prodotti di Star Wars, e forse anche di quelli più vecchi. Devo dire infatti che non ridevo così tanto di gusto da tanto tempo, e questa scena mi ha fatto un po' tornare bambino. Il fulcro della sequenza però è che nemmeno gli anzellani riescono a riparare i G11, poiché serviva un pezzo molto raro e praticamente introvabile, e cioè un nuovo circuito mnemonico. Din Djarin però si impegnerà a trovarlo, e per questo saluta gli anzellani e soprattutto Griffkarga, chiedendogli di custodire i pezzi di IG-11 finché egli non fosse tornato. Appena uscito dal pianeta, Din Djarin viene inseguito da Vane, che vuole vendicarsi per quanto accaduto, e da altri pirati. Essi possiedono delle astronavi che somigliano molto ai mitici R-41 Starchaser, delle navi presenti nelle espansioni del videogioco TIE Fighter e in altri capolavori come X-Wing vs TIE Fighter o Il Potere della Forza. In realtà mi hanno ricordato anche un po' lo Starfighter R-22 Spearhead, che si vede nella serie Droids degli anni Ottanta. Tra i piloti pirati che affiancano Vane, oltre a quelli di specie già viste, ne troviamo uno di specie Shydop, comparsa per la prima volta negli episodi 6 e 7 della seconda stagione di Domandalorian. I pirati ovviamente si fiondano all'inseguimento di Din, e ne nasce una bellissima sequenza spaziale di battaglia tra gli asteroidi, che come sappiamo è un marchio di fabbrica di Star Wars sin da episodio 5. Subito dopo Mando si trova proprio di fronte all'astronave di Gorian Shard, che ricorda molto il design dei mitici Superstar Destroyer di classe Eclipse, che sono comparsi per la prima volta nella trilogia fumetti Legends Dark Empire, e poi in tantissime altre opere di Star Wars, sempre ovviamente Legends. Anche Gorian Shard è un personaggio che compare per la prima volta in Star Wars, e inizialmente il suo aspetto, soprattutto e anzi solamente per la conformazione del viso, mi aveva ricordato un po' quello dei Lassat, la stessa specie di Zeb che vediamo in Rebels, o con Jaro Tapal in Jedi Fallen Order. Ma come vi dicevo, con questa specie condivide solamente più o meno i tratti del viso, poiché non esistono lassat con gli occhi rossi, e soprattutto non esistono lassat che sono praticamente ricoperti di erba. Ed è quindi molto più probabile che questo personaggio appartenga ad una specie nuova, oppure che faccia parte di una specie già conosciuta, ma che si è ridotto davvero male. E in questo senso ho trovato molto palese il riferimento a Davy Jones, uno dei villain più caratteristici della saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi. Dopo essere fuggiti dalla morsa del pirata, Dean e Grogu giungono sul pianeta Kalevala. Anche questa location debutta per la prima volta in live action, dopo essere stata menzionata in The Clone Wars. Si tratta del pianeta natale della casata Kryze, dove nacque la duchessa Satin. Kalevala fa parte del sistema di Mandalore, e i due si recano proprio presso il castello mandaloriano in cui si trova Bo-Katan Kryze. Giunto al suo cospetto, Din Djarin esprime la volontà di unirsi a lei, per ritornare su Mandalore, ma poiché aveva perso la Darksaber, ella ormai non aveva più nessuno al suo seguito. Come sappiamo, la spada oscura era un forte simbolo di potere per il popolo mandaloriano, e poiché dopo le vicende della seconda stagione di Domandalorian a detenerla era Din Djarin, egli deteneva anche quel potere, nonostante per il momento non gli interessi minimamente di sfruttarlo. Dal loro dialogo traspare anche tutto il disprezzo di Bo-Katan per l'estremismo dei figli della Ronda, e per tutte quelle fazioni che avevano abbandonato Mandalore prima della purga. Ella inoltre schernisce Din Djarin sull'inutilità di raggiungere le acque viventi e soprattutto di redimersi agli occhi del credo, ma nonostante questo gli fornisce una preziosa informazione, dicendo che le miniere di Mandalore e soprattutto le acque viventi si trovavano al di sotto del centro civico di Sundari, che come ricorderete era la capitale del pianeta. Anch'essa ormai completamente rasa al suolo, come abbiamo potuto vedere nei flashback del quinto episodio di The Book of Boba Fett, e anche all'interno dei trailer della terza stagione di Domandalorian. Con il disinteresse di Bo-Katan e con Din Djarin e Grogu che vanno via da Kalevala, si chiude questo primo episodio della terza stagione, che come vi dicevo ha in sé degli elementi interessanti, ma mi ha comunque fatto un po' storcere il naso per quelle che sono state alcune scelte narrative. Sospetto infatti che Jon Favro abbia faticato un po' a scrivere questo episodio, poiché al suo interno voleva per forza di cose portare dei recap di quello che era accaduto nella serie The Book of Boba Fett, ma in questo senso spero che si sia accorto che non è stata una scelta saggia quella di inglobare degli importanti risvolti narrativi all'interno di un altro prodotto, considerando il fatto che moltissime persone non l'avrebbero visto. E come detto queste scelte narrative non sono solo importanti, ma sono fondamentali per il prosieguo della serie The Mandalorian. In The Book of Boba Fett infatti abbiamo visto non solo come Din Djarin sia riuscito a recuperare una nuova astronave, ma anche e soprattutto quelli che sono stati risvolti di Grogu con Luke Skywalker, il suo ritorno con il Mandaloriano è forse l'elemento più importante, che doveva essere l'incipit della terza stagione, quello della volontà di Din Djarin di redimersi e quindi di raggiungere il pianeta Mandalore. Nella scrittura dell'episodio quindi Jon Favro ha dovuto inglobare in maniera molto frettolosa questi elementi all'interno della narrazione e quindi praticamente il risultato finale, a mio modo di vedere, è stata un po' una cozzaglia di sequenze che non avevano un nesso logico tra di loro. Abbiamo visto infatti Din Djarin andare dal pianeta dove si trovavano i figli della Ronda a Nevarro per poi virare bruscamente per Kalevala, chiedendo aiuto a Bo-Katan. Insomma, considerando il fatto che, come vi dicevo, Jon Favro ha dovuto inglobare elementi narrativi che aveva già narrato in The Book of Boba Fett, la scrittura di questo episodio ha subito alcuni scivoloni, che comunque non hanno inficiato tantissimo la resa finale dell'episodio, perché se da un lato lo possiamo considerare uno degli episodi, diciamo così, più fiacchi di The Mandalorian, se messo a confronto con altri episodi, soprattutto di The Book of Boba Fett, rimane sempre di una qualità molto molto alta. Nonostante questo sono stati comunque inseriti molti elementi narrativi interessanti, ad esempio da non sottovalutare, a mio parere, quello del giovane Ragnar, che potrebbe avere un peso specifico importante nei prossimi episodi, ma anche quelle che sono le abilità migliorate di Grogu, e soprattutto quello che d'ora in poi sarà un vero e proprio rapporto familiare tra Dina e Grogu, anch'esso perno fondamentale di questa terza stagione. Un altro personaggio che sarà sicuramente vitale all'interno delle prossime puntate sarà proprio Bo-Katan, e mi è dispiaciuto che in questo primo episodio abbia avuto uno screen time un po' più basso, e relegato solamente al finale. Ma nonostante questo le premesse di Bo-Katan sono davvero molto interessanti, e diventerà una pedina importante per il proseguo della serie. Oltre alle questioni riguardanti la scrittura, un altro elemento che ho trovato molto ridondante è quello di voler praticamente riattivare il droide IG-11, che obiettivamente è un personaggio fatto e finito, un personaggio che ha avuto il suo picco emotivo nel finale della prima stagione, e soprattutto che ha ampliamente concluso il suo arco narrativo. Quindi non vedo dove sia l'utilità di farlo praticamente tornare in scena. Se non per un piccolo elemento introduttivo che scopriremo all'interno delle prime sequenze del secondo episodio, ma che verrà risolto praticamente nell'immediato. E con questo mi preme sottolineare che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima anche il secondo episodio, che è nettamente migliore di questa prima puntata, anche perché finalmente, messi da parte quelli che dovevano essere gli assetti narrativi che già si dovevano conoscere, manda avanti la trama in maniera ottimale, e soprattutto manda avanti in maniera ottimale la crescita dei personaggi, e si conclude con un colpo di scena davvero mozzafiato. Tutti elementi dei quali però avrò modo di parlarvi la prossima settimana. Nota di merito, oltre alla spettacolare scena dell'apparizione dei Purghil, che mi ha davvero emozionato tantissimo, va, come vi dicevo, alla sequenza degli Anzellani, che ovviamente è una sequenza leggera, una sequenza di divertimento, ma che però mi ha ricordato davvero quelle che sono le radici più profonde dei prodotti di Star Wars, e cioè dei prodotti che ti danno degli insegnamenti, dei prodotti dove ci sono dei significati anche struggenti e profondi, ma che comunque si basano sempre su quello spirito giocoso e gioioso, e questo a mio modo di vedere è un elemento importantissimo. Un'altra sequenza in cui abbiamo assaporato molto Star Wars è stata quella della battaglia spaziale tra gli asteroidi, davvero interessante, e anche la futura presenza di Gorian Shard potrebbe essere un elemento che dia Pepe a questa terza stagione di Domanda Lorian. Tutto sommato, a parte qualche scivolone nella scrittura, questa prima puntata, che è stata diretta da Rick Famuyiwa, che si occuperà della settima e dell'ottava puntata, quindi del finale di questa terza stagione, è stata abbastanza godibile. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo primo episodio di Domanda Lorian 3, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!